In questa puntata, Sanità, rafforzato il sistema trasfusionale della Toscana. Garante infanzia e adolescenza, attività 2020, approvata la relazione e risoluzione. Lavoro, in Toscana la prima legge a tutela dei riders. Il sistema trasfusionale della Toscana sarà rafforzato e terrà conto di temi particolarmente rilevanti sollevati dalle associazioni dei donatori. Il Consiglio regionale ha infatti approvato all'unanimità una proposta di risoluzione illustrata dal Presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni, del Partito Democratico, che ha ricordato il percorso svolto per sostenere la rete. La risoluzione avviene a valle di un'audizione che abbiamo fatto di tutte le associazioni che si occupano del sistema della donazione del sangue e del centro regionale sangue, che è una struttura dell'organismo toscano del governo clinico. La rete trasfusionale è una rete complessa che ha come architrave portante il gesto singolo di ogni cittadino di donazione, che ricordo è libero, gratuito, volontario, e che è strettamente legato a associazioni di volontariato che organizzano, che incentivano, che ricordano ai cittadini l'importanza di donare e che sono quel sistema che ci garantisce che il sistema sanitario regionale abbia il sangue e tutti gli emoderivati che servono per l'attività quotidiana. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di risoluzione che approva la relazione sull'attività svolta nel 2020 dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Il Consiglio regionale ha votato a favore della proposta di risoluzione relativa al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza a seguito di un'istruttoria che è stata compiuta in prima commissione con l'audizione della Garante della Regione Toscana, la dottoressa Bianchi. Il 2020 è stato sicuramente un anno difficile, un anno caratterizzato dalla pandemia, ma anche l'anno delle elezioni regionali. Nonostante tutte queste difficoltà, l'attività del Garante per l'infanzia non si è interrotta ed è proseguita con la stessa efficacia di sempre. Il gruppo della Lega, così come ha fatto in commissione, anche in aula ha votato contro la relazione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, che ci è sembrata soprattutto una enunciazione di numerosi vorrei ma non posso. Questo perché il Garante è oggettivamente una figura debole, voluta con forza dalla sola maggioranza e non messa in condizione di operare con una struttura adeguata anche dal punto di vista del personale. Infatti ci sono soltanto tre funzionari, di cui un dirigente, altre due figure, di cui una facenti compiti di segreteria. Non è stata ancora conclusa la convenzione con l'Istituto degli Innocenti, che pure sarebbe importante per tutta una serie di ricerche e di approfondimenti indispensabili per far funzionare in modo adeguato la figura del Garante dell'infanzia. Quindi manca il personale. Lavoro complesso, quello di stare a garantire i diritti degli adolescenti, dei giovani, che sono coloro che più di altri hanno veramente sofferto di questa pandemia. Un anno complesso, difficile. Noi chiediamo di fare misure importanti. Ho chiesto all'Aula di utilizzare la complessità delle risorse a disposizione del Consiglio regionale per fare in modo che, mediante delle leggi, si possano istituire in Toscana anche delle luoghi di incontro, delle opportunità, ridare ai ragazzi quello che la pandemia ha tolto loro, cioè la relazione, il feedback, le iniziative di carattere culturale. Credo che sia stato un anno veramente complesso e credo che noi dobbiamo e possiamo fare di più. In queste ore stiamo facendo un lavoro straordinario. Se penso ai tamponi salivari che abbiamo chiesto per i ragazzi, per gli studenti, la possibilità di eliminare le mascherine all'aperto, alcune attenzioni delle quali i ragazzi hanno effettivamente bisogno, si possono e possono fare in questo momento, oltre che ovviamente istituire con delle leggi delle opportunità nuove per rilanciare la loro attività e renderli protagonisti del loro stesso futuro. In questo momento l'infanzia, dico anche l'adolescenza, è sottoposta a uno stress maggiore di quanto ha avuto in precedenza. Il ruolo del garante diventa fondamentale per cercare di registrare quello che è l'allarme che viene dai nostri bambini, dai giovani e dalle loro famiglie. L'attenzione al cyberbullismo, l'utilizzo delle nuove piattaforme, le relazioni a volte complesse che ci sono nelle famiglie sono tutti ragioni per attenzionare al garante delle situazioni che possono diventare diffuse e che in qualche maniera vanno analizzate. E credo che sia fondamentale investire nei bambini e nei giovani anche in questo senso, con la tutela, che è la cosa principale che dobbiamo fare non soltanto come genitori, ma anche noi come istituzioni. Lo valuto in maniera pessima. Una relazione che arriva con due mesi di ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge. Una relazione che è tutto franne che una relazione. La dottoressa Bianchi, anziché raccontarci come spende gli 80.000 euro circa che la Regione Toscana destina alla sua figura annualmente e raccontarci quali progetti ha realizzato, quali obiettivi ha centrato, ha presentato una relazione in cui ha fatto una collezione dei 28 comunicati stampa che ha inviato, un bando di concorso che lei stessa si è vantata di aver redatto, salvo poi scoprire che ha ottenuto nemmeno la partecipazione di una persona, quindi è andato deserto, e a fronte di, appunto, ripeto, 80.000 euro investiti nella sua persona. Ha raccontato di una garante che si trova in difficoltà, che lavora da sola, senza il supporto della Regione, e tra l'altro mettendo anche, gettando anche una cattiva luce sulla Regione Toscana, quando in realtà la Regione Toscana mette a disposizione la dottoressa Bianchi, due persone, una a contratto full time, tra l'altro un part time, la stessa dottoressa Bianchi spende 15.000 euro l'anno in consulenze esterne per assistenza a queste due persone che già sono messe a sua disposizione nella Regione Toscana, e infine, prima di gettare così tanto discredito sulla nostra Regione, dovrebbe anche pensare che venendo lei da Milano, oltre al suo rimborso spese, oltre al suo stipendio di 3.800 euro al mese, ci costa anche 13.500 euro di biglietti di treno per farla arrivare da Milano a qui. Il Consiglio regionale ha approvato l'atto primo firmatario il Presidente Antonio Mazzeo a maggioranza. Un documento tecnico di valutazione dei rischi definirà i dettagli per formazione obbligatoria a carico delle imprese, monitoraggio, controllo e prevenzione in materia di sicurezza, a prescindere dalla tipologia del contratto in essere. Il datore dovrà fornire dispositivi di protezione individuale, abbigliamento consono a turni di notte e in condizioni meteo avverse, la sicurezza, la formazione, il controllo e la rappresentanza sindacale a tutela dei riders. Oggi dietro un rider o dietro un fattorino di Amazon non ci deve essere un algoritmo, come spesso viene rappresentato, ma c'è una persona, c'è un lavoratore e come tale deve avere diritti, più diritti rispetto a quelli che aveva oggi. Questa oggi è una legge di grande dignità e un passo avanti, non so quanto grande o quanto piccolo, ma è un passo avanti rispetto alla tutela del lavoro e chi si impegna nelle istituzioni dovrebbe porla sempre al primo posto. Abbiamo votato a favore, abbiamo condiviso l'impianto della legge perché riteniamo opportuno dare nuovi diritti, istituire dei principi che possono dare un'opportunità di tutela e di garanzia a delle persone che ovviamente lavorano, che hanno delle opportunità a saltuare di lavoro, ma in quella opportunità ci possa essere la tutela della loro vita, soprattutto in un momento come questo dove molte volte si riscontrano anche dei morti sul lavoro. Quindi ogni norma che va nella direzione di tutelare i diritti e soprattutto le garanzie delle persone che lavorano, a mio avviso, deve essere colta in termini molto positivi e una legge innovativa che mi auguro possa essere apripista a livello nazionale. La normativa e l'impianto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano ai lavoratori delle piattaforme digitali, sia che questi lavoratori siano inquadrati come autonomi o come dipendenti. Quindi è in questo quadro che noi interveniamo con questa norma che prevede che si elabori un documento tecnico, che vada a analizzare quali sono i rischi specifici di questo lavoro, individui come si fa a prevenirli, quali sono gli strumenti di sicurezza sul lavoro che devono essere forniti a questi lavoratori, qual è il livello di formazione che deve essere fatto, qual è il livello di tutela sanitaria, e prevede altresì che si favorisca la realizzazione, la nomina, l'istituzione dei responsabili dei lavoratori sulla sicurezza che sono previsti dalla normativa nazionale, ma troppo spesso non applicati e non concretizzati in questo tipo di lavoro. Quindi aumentiamo questa parte di tutela e prevediamo poi che il sistema di prevenzione delle aziende sanitarie facciano controlli, ovviamente in un'ottica essenzialmente di prevenzione del rischio, ma anche poi controlli sul preciso rispetto di queste normative. Abbiamo votato a favore, siamo favorevoli a questo genere di interventi, perché le disuguaglianze tra lavoratori sono sempre più crescenti, e anche a fronte di nuove modalità di lavoro, quello con piattaforme digitali, ma dobbiamo pensare anche ai molti lavoratori smart working che hanno comunque necessità per esempio di tutela della loro salute nella modalità differente in cui lavorano. Le sfide che dobbiamo affrontare non soltanto per la pandemia, ma anche per un modo di lavorare diverso, sono molte. Il Governo nazionale è giusto che intervenga per creare omogenità, ma ben venga laddove ci sono delle buone proposte che anche le regioni si attivino in tal senso. Da questo punto di vista con la Ministra Annunzia Catalfo sono stati gettati i semi per molti di questi progressi che devono essere fatti nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro e soprattutto della tutela della dignità di tutti i lavoratori. Sta questo Governo adesso riuscire a portarli avanti. Io credo che si parla tra l'altro di stress da consegne. Ora, se qualcuno deve avere lo stress da consegne, sono per esempio i camionisti, non certo i rider che devono portare una pizza, oppure devono fare dei corsi di comportamento stradale. Ma vi rendete conto? Chi deve avere a un certo momento la patente, perché ha il motorino o la macchina, ovviamente già l'ha fatto. Chi deve andare in bicicletta, lo facciamo per tutti, oppure è inutile che si debba fare corsi di questo genere. Io credo che ci sia l'ennesima di stacco tra le cose che facciamo nel palazzo e le cose che facciamo invece nella vita normale. Sui rider va fatta una precisazione, perché è doverosa, perché anche tanti ragazzi che svolgono questa professione ce lo chiedono. La Regione Toscana, con la legge che abbiamo votato oggi, non trasforma la figura del rider in un lavoratore subordinato. Questo è ovviamente un qualcosa che spetta alla normativa nazionale. La Regione Toscana oggi fa soltanto un passo, che sia piccolo o grande, lo scopriremo col tempo e con i risultati, nella tutela della salute, della sicurezza di chi svolge questo lavoro. Ci ammettiamo un piccolo tassello, piccolo, nella speranza che sia soltanto il primo, a tutelare la salute e la sicurezza di questi ragazzi che fanno lavori rischiosi, perché, lo sappiamo tutti, stanno in mezzo al traffico, girano con mezzi leggeri, biciclette, motorini, corrono perché a volte qualche secondo per loro può determinare la riuscita lavorativa di una giornata. Quindi noi oggi abbiamo fatto un piccolo passo nella tutela della sicurezza dei rider. Da un punto di vista del contratto lavorativo, restano con il contratto che avevano fino adesso, cioè non è che risolviamo il problema, continuano a lavorare a cotti, come una partita IVA e non certo come lavoratori subordinati. Sport e diritti, presentata a Palazzo del Pegaso, l'iniziativa organizzata dal quartiere 5 per fare sport e parlare del contrasto a ogni forma di discriminazione. Sarà una giornata con diversi momenti, intanzitutto lo sport all'Atletia Castello, con la WISP, con arci gay, arci lesbiche ed altri, sport, calcetto, sport, pallavolo. Ci sarà poi un momento di riflessione dalle 14.30 alle 16, in cui appunto rifletteremo su questi temi, sul tema del genere, dello sport per tutti, un'opportunità anche aperta al territorio per ragionare di queste cose. Credo che un'iniziativa di questo genere che riesce attraverso lo sport a parlare di diritti, a parlare di dare la possibilità a tutti di esprimere le proprie idee, i propri orientamenti, senza paura, senza preoccupazione, vada sostenuta con grande forza. Sì, una giornata speciale, una giornata dedicata a Paolo Neri, che negli anni è stato un grande animatore di manifestazioni simili a quella di questo sabato, un grande sostenitore del connubio tra sport e diritti, di riuscire a parlare di diritti, quindi di persone attraverso lo sport, attraverso l'amicizia, attraverso lo stare insieme. Grazie a tutti.